Ieri sera, a partire dalle ore 19, Caltanissetta ha ricordato il tragico terremoto del 1908 che distrusse Messina e devastò Reggio Calabria. Il terremoto provocò danni in varie parti della Sicilia, ma Caltanissetta fu risparmiata. In quell'occasione il popolo entrò in cattedrale e portò in processione di ringraziamento i tre santi patroni, San Michele, l'Immacolata ed il Redentore. È l'unica processione che ogni anno si è svolta anche in periodo bellico, fino al Covid. Nessuna banda ha accompagnato i tre simulacri proprio perché si tratta di una processione devozionale. Il percorso è stato Piazza Garibaldi, Corso Vittoria Emanuele, Largo Badia, Viere d'Italia, Corso Umperto e di nuovo Piazza Garibaldi. Come avveniva un tempo, i tre simulacri si sono fermati davanti alla chiesa di Sant'Agata al collegio, dove le tre statue sono state posizionate una accanto all'altra a dimostrazione che si tratta di i tre copatroni.